La provincia di Pesero-Urbino come capofila per il lavoro di digitalizzazione e di informatizzazione è effettuato al suo interno. La proposta arriva dall'UPI, Unione delle Provincie Italiane, e vede di fatto la nostra provincia come quella più digitalizzata a livello nazionale. La proposta arriva in seguito ad un lavoro effettuato internamente di cui ha parlato il presidente Giuseppe Paolini. Mi è arrivata la notizia che ci hanno proposto, sicuramente verrà accettato da tutti, come provincia capofila nella digitalizzazione e informatizzazione proprio per il lavoro svolto fino adesso dalla provincia di Pesero-Urbino. Per cui saremo capofila per tutte le province d'Italia. Questo fa piacere a me e deve far piacere a noi, ma sono felice per il lavoro che hanno svolto anche tutti gli operatori, tutti i dipendenti e tutte le persone che lavorano in provincia, che come dicevo prima abbiamo delle grandi professionalità, che purtroppo con questa famigerata legge che ha voluto in qualche modo far fuori le province senza riuscirci, ha per un po' fermato questo humus costruttivo che c'era all'interno della provincia e ritorneremo con forza e dura a cancellarci.